cari spettatori del cinevirus oggi parliamo dell'agente segreto più famoso della storia del cinema e forse anche della storia della letteratura james bond 007 nasce nel 1953 nei romanzi di john fleming nella grande tradizione del genere inglese e approda nel cinema nel 1962 con 007 licenza di uccidere 00 vuol dire appunto quello perché continuiamo ancora a parlare di james bond e soprattutto a correre a vedere i suoi film perché è intriso di quell'atmosfera particolare degli anni 60 e perché un eroe spavaldo imperturbabile capace di durezze e di violenze quando serve tenere carezzevole con le bellezze straordinarie che gli passano vicino e poi le armi più strane e la lotta ininterrotta contro questi organizzatori del crimine internazionale multinazionale che vorrebbero compromettere la salute del mondo come protagonista avevano pensato inizialmente anche a kerry grant a james mason a david niven e poi scelsero questo sconosciuto attore scozzese sean connery che in effetti avrebbe dato al personaggio la sua identità ancora oggi resiste qualcuno sostiene che quello sia il james bond 007 licenza di uccidere dove siamo siamo in giamaica paesaggio esotico c'è una strana organizzazione la spettre che sta compromettendo i lanci missilistici americani un agente segreto viene trovato ucciso spediscono james e che naturalmente svolge le indagini passa da un trabocchetto all'altro cercano di farlo fuori in tutti i modi in tutte le maniere incontra donne bellissime fra cui a un certo punto spunta da una piscina in bianco ursula andres sulla quale ci sarebbe da fermarsi a futura memoria e poi alla fine arriva in questa strana isola nella quale ci sono dei reattori nucleari che potrebbero esplodere da un momento all'altro e questo mister no che naturalmente arriva al punto in cui potrebbe uccidere james ma come accade in tutti i film di questo genere l'eroe arriva a un millimetro dalla sua possibile sparizione ma poi per un miracoloso colpo di fortuna o di genio vince e fa esplodere tutto la colonna sonora dan 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 dan